Siamo con Manuello Para, portiere del Roma City. Allora, sulla gara di oggi un commento, sei riuscito a mantenere la porta inviolata contro la capolista, quindi immagino una buona soddisfazione per te, però arrivato solo un punto. È vero che affrontavate la capolista, ma avete fatto un'ottima partita. Forse vi sta anche un po' stretto addirittura questo punto, cosa ne pensi? Innanzitutto, buonasera. L'importante era non perdere, perché sapevamo la forza del Pineto, sapevamo che se avessero vinto avrebbero vinto il campionato. Siamo stati bravi, abbiamo cambiato il modulo, bravi tutti, chi è entrato. Ovviamente sono felice personalmente per aver fatto l'ennesimo clean sheet e l'importante era non perdere per allenarci bene tutta la settimana in vista dell'ultima partita domenica prossima. Questa era l'ultima in casa, almeno del campionato, poi si vedrà. E appunto, per una settimana ci sarà l'ultima che chiuderà questa stagione regolare. Ti chiedo, cosa ti aspetti e anche un commento su questa stagione? Beh, innanzitutto, l'ultima partita sarà una guerra, perché Tolentino sta bene, deve salvarsi come noi. Questa settimana dovremo allenarci a 3.000, proprio perché ci aspetterà una guerra. e niente, quindi saremo sul pezzo questa settimana. Grazie. Buona serata.